Un ruolo di supporto per le imprese in un settore in forte crescita. La sezione toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali continua ad essere un tramite fondamentale per le imprese che intendono iscriversi per il trasporto dei rifiuti. L'Albo, inoltre avvalendosi degli uffici della Camera di Commercio di Firenze, si occupa anche di altre attività amministrative che vanno dalla ricezione ed istruzione delle pratiche telematiche fino al rilascio dei provvedimenti deliberati, rendendoli disponibili al Comitato Nazionale. A fine 2022 sono 14.964 le imprese iscritte, 1.460 le nuove iscrizioni. In crescita anche il numero di procedimenti saliti rispetto al 2021 di quasi 7.000 unità. L'Albo è una dimensione regionale, si occupa della parte amministrativa per poter smaltire i materiali, dividendoli per settore e tiene il registro dell'iscrizione. Quindi l'Albo ha questa funzione. Poi non si limita ovviamente alla mera amministrazione e alla mera parte burocratica, ma cerca anche soprattutto, essendo tra l'altro la seconda regione dopo la Lombardia, come numero di iscritti, oltre 15.000 iscritti, di formare, e infatti l'attività che stiamo facendo e che stiamo riproponendo anche per quest'anno, è quello di formare rispetto anche alle nuove decreti attuativi, rispetto anche al PNRR e rispetto soprattutto alle leggi ambientali. La crescita del numero di procedimenti è legata in buona parte anche agli ecobonus. È chiaro che molti, magari sono dei bravi muratori, bravi edili, però spesso la parte amministrativa bisogna aiutarli a crescere anche in quello. Per orientare le aziende, l'Albo promuoverà anche nel 2023 i consueti incontri formativi. Abbiamo deciso per il 2023 di ripartire dall'ABC, perché ogni tanto c'è bisogno di riaggiornare le basi, perché tanto le basi. Poi ci sono ovviamente dei livelli più approfonditi, antepero non a caso è stato fatto anche un accordo col Sant'Anna, quindi il leader nella formazione in Toscana, assolutamente fra i migliori centri di formazione, proprio anche sull'economia circolare, quindi attualità fondamentalmente. Giovedì 26 gennaio è programmato webinar gratuito in collaborazione con ICE per approfondire la nuova normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al Brasile. Per partecipare allo webinar occorre compilare il modulo di partecipazione entro il 25 gennaio sulla pagina dedicata del sito www.promofirenze.it Il 31 gennaio scade il termine per rinnovare il marchio annuale dei metalli preziosi, senza incorrere nell'applicazione degli interessi di mora. Nei prossimi giorni sarà inviata una mail alle aziende assegnatarie, con oggetto PagoPà avviso di pagamento, contenente il pagamento precompilato con l'importo del diritto di saggio e marchio dovuto, per chiarimenti scrivere a attività.ispettivechiocciolafi.camcom.it oppure chiamare lo 055 23 92 146. Mercoledì 15 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 nell'auditorium della Camera di Commercio di Firenze è programmato un seminario di orientamento per studenti delle scuole secondarie e superiori dal titolo Il biologo, le competenze e le opportunità lavorative, per partecipare all'incontro, che fa parte del ciclo di orientamento al lavoro e alla creazione di imprese a orientarsi al futuro. È necessario scrivere a rapporti.scuolaimprese.com.it Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News direttamente nella mail. La newsletter Camera di Commercio di Firenze